un terzo e un secondo posto al suo attivo partiti Ratlam davanti a Younger Ears Goldfair e The English Yonka dopo 200 metri di corsa passa Younger Ears davanti a Ratlam Goldenfair e The English Yonka all'inizio della curva in vantaggio Younger Ears davanti a Ratlam Goldenfair e The Irish Yonka poco prima dell'ingresso in vantaggio Younger Ears davanti a Ratlam Goldenfair e The Irish Yonka i cavalli entrano in dirittura con Younger Ears in vantaggio lungo la corda davanti a Ratlam Goldenfair per linee interne e The Irish Yonka e sempre in vantaggio The Young Ears davanti a Goldenfair Ratlam e The Irish Yonka e sempre in vantaggio Younger Ears davanti a Ratlam con all'interno Goldenfair è facile Younger Ears davanti a Goldenfair attaccato all'esterno da Ratlam e dunque Younger Ears mantiene fede al pronostico che lo voleva favorito forse in maniera anche più facile dopo aver visto la corsa di quanto noi si prevedesse in previsione però i nostri amici scommettitori l'hanno vista giusta perché ha chiuso a 1,51 e possiamo dire che Carletto Fiocchi è il capolista dei Fantini a Roma una su una tra l'altro non so se i vari e i che ha chiuso che ha chiuso